Ha preso il via il cantiere per la costruzione del nuovo municipio di Nago Torbole. L'amministrazione guidata dal sindaco Gianni Morandi ha dato inizio ai lavori nel Parco Pavese che porteranno alla realizzazione della platea di fondazione su cui sorgerà poi la nuova casa del comune. Con questo progetto diamo una risposta ad un importante impegno preso in campagna elettorale sia con i cittadini che con il personale che negli uffici lavora quotidianamente, ha commentato il primo cittadino Morandi. Lo facciamo recuperando parte dei volumi abbandonati dell'ex dependence, demoliti oltre un anno fa e per assicurare i migliori servizi al territorio. Saranno seguiti i lavori di realizzazione della platea e successivamente, una volta assegnato l'appalto, verrà montato l'edificio, un prefabbricato con una struttura in legno all'avanguardia con le più moderne tecniche di risparmio energetico. Seguirà poi la completa riqualificazione del Parco Pavese e la costruzione della nuova piazza. Un'opera che complessivamente, sistemazioni esterne incluse, varrà 4,2 milioni di euro. Intanto ieri sono stati riaperti anche i cancelli del campetto di calcio di Nago, che è stato completamente rinnovato. I lavori di riqualificazione della struttura sportiva, realizzati con fondi comunali, circa 20 mila euro il costo totale, hanno interessato il manto erboso sintetico, sostituito nella sua totalità, e la recinzione. Ci auguriamo, ha commentato l'assessore allo sport Fabio Malagoli, che il rinnovato campetto possa essere pienamente utilizzato e rispettato. Riteniamo che lo sport sia solo sinonimo di benessere, ma anche di educazione sociale.